The Cooking Show torna su Rai 3 per 7 puntate speciali dal 24 di dicembre fino al primo gennaio i più grandi chef si incontrano qui per dare vita a 7 menù speciali pensate per accompagnare le vostre feste non potete mancare The Cooking Show, il mondo in un piatto dal 24 dicembre su Rai 3 Chef all'opera!